Forza Italia vuole riappropriarsi di un ruolo guida che ha perso, si è affievolito, si è indebolito. Occorre farlo con serietà, con responsabilità, ma soprattutto dimostrandolo. Oggi secondo me più che mai occorre che chiunque venga scelto e chiunque venga scelto con i criteri che poi si sceglieranno non se ne vada per conto proprio, non vada da solo a fare l'ennesimo tentativo fallimentare, solo insieme. E attraverso questo momento si può pensare di arrivare anche alla doppia cifra. Io non sono per i pastrocchi, non sono per le ammucchiate, sono per la chiarezza, per la trasparenza e soprattutto per un'identità. O di qua o di là. Perché il resto lo si può costruire. Non tralascio gli altri aspetti di ragionamento. Lo si può costruire però se si ha il coraggio immediatamente di posizionarsi sulla qualità e sulla proposta che è l'unica che può servire come risposta ai cittadini. Nell'ipotesi contraria sarebbe solo autoreferenzialità e cioè salviamo noi stessi mettendoci tutti assieme pur di realizzare l'arresto di altri che potrebbero vincere. I sondaggi insomma sono chiari, anche se sui sondaggi vedremo. Onorevole Falcone, cosa rispondete a chi sostiene che in tutti questi anni praticamente opposizione non ne avete fatto? Noi rispondiamo con gli atti amministrativi, con gli atti legislativi, con le nostre proposte che sono state poi, si sono tradotte in norme legislative. Noi domani saremo ad esempio a Siracusa perché è stata e rimasta inattuata una nostra norma che dava dei contributi ad esempio a quei pescherecci che erano stati sequestrati illegittimamente nel mar Mediterraneo l'anno scorso e due anni fa. Bene, ancora il governo a distanza di oltre otto mesi non ha dato attuazione. È rimasto, come dire, inalterato il nostro disegno di legge sul riordino della formazione professionale, è rimasto inalterato, diciamo così, non considerato. Le nostre proposte relative ai consorsi di bonifica e alla messa in produttività del precariato siciliano, soprattutto i forestali. Queste e tante altre cose potremmo dire per dire come Forza Italia. Da un lato è stata opposizione intransigente, seria. Siamo stati noi a consentire di presentare la prima mozione di sfiducia e la seconda siamo stati noi a proporla. Ma poi abbiamo anche fatto, abbiamo lavorato nell'interesse della Sicilia e nell'interesse dei siciliani, non guardando gli steccati, ma guardando soprattutto al cittadino siciliano.